Collodi, Pistoia, 26 APR, edizioni complete e riduzioni illustrate per bambini, fumetti e trascrizioni in braille, in italiano e in varie lingue del mondo, pure in dialetto. C'è ad esempio una riduzione del libro di Pinocchio, La chiavina d'oro, a cui si dedicò Alexei Nikolaevich Tolsti, uscita in Russia in un'epoca in cui la stampa dell'opera di Collodi non era consentito pure le avventure del celebre Burattino in Bergamasco o in Sardo, Is Contus Deo Pinedu. Sono le opere della collezione di 950 volumi, raccolti tra il 1902 e il 2010, tutti incentrata su Pinocchio, donata alla Fondazione Carlo Collodi di Pescia, Pistoia. Si tratta della raccolta iniziata dall'avvocato Oddo Marinelli, membro dell'Assemblea Costituente italiana e giornalista, continuata poi dal nipote Alberto Volpe.